Ciao a tutti, sono Lorenzo, ho 20 anni e faccio l'Università di Scienze di Politica con tutti gli obiettivi sono... Frank Zappa Mai Politica Party Antotti sto firmando, dimmi qualcosa Oh grande, siamo qui con la CGL e l'NBA Basket Ho spero di fare avventure con molti nuovi amici Ciao